Salve, sono Maria Pia Perisano, responsabile del centro antiviolenza e presidente provinciale del CIF di Salerno. L'iniziativa di stamattina è in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne di genere e vuole simbolicamente ricordare una parte delle donne che sono state ammazzate nell'anno 2013. Queste sedie sono solo una piccola percentuale, sono appena 64. Al momento non abbiamo ancora la percentuale delle donne del 2014, fino a gennaio ad agosto sono addirittura 160. E' un fenomeno che purtroppo sta diventando una vera e propria piaga sociale e dobbiamo rimborcarci tutte le maniche perché non resti assolutamente in maniera silenziosa il ricordo di tutte queste vittime a causa della violenza di tanti sopraffattori. Noi cerchiamo con il nostro centro, aperto presso la Caritas Diocesana, il martedì e il giovedì, di dare sostegno, ascolto, consulenza psicologica e legale a quante ci chiedono aiuto per far sì che trovino il coraggio di uscire finalmente allo scoperto e denunciare i maltrattanti, che noi non intendiamo tenere assolutamente fuori e ghettizzarli. Anzi, stiamo cercando di riuscire ad inserirli in un percorso di recupero e di riabilitazione, con un protocollo d'intesa che abbiamo stilato come associazione e come centro antiviolenza, con un'associazione di psicoterapeuti e psichiatri che si occupa appunto del recupero di questi soggetti maltrattanti. L'associazione si chiama A Voce Alta. Di questo siamo molto orgogliose perché crediamo che il circuito della violenza deve essere assolutamente un percorso che inquadri a 360 gradi il fenomeno. Aiutare la donna significa anche poterle dare delle risposte per recuperare, dove è possibile, il senso di appartenenza anche al nucleo familiare, quindi poterli dare, per la maggior parte dei casi si tratta di mariti, di compagni, e quindi poterli aiutare a recuperare il senso di paternità rispetto anche a tanta violenza che purtroppo subiscono i minori che assistono inconscientemente a questo fenomeno. L'associazione si trova a Via Giulio Ruggi, a Torrione, a Salerno, e è aperta all'iscrizione delle donne che, come tante di noi, credono in valori che sono soprattutto quelli di ispirazione cristiana. Possono rivolgersi tranquillamente alla nostra sede per poter prendere anche contatto con le nostre amiche, per rendersi conto di quale attività noi svolgiamo sul territorio ormai da 70 anni, anni della nostra associazione.